Ciao a tutti ragazzi e bentornati Ciao a tutti e bentornati sul canale con un nuovo video unboxing Oggi nuova SH Figuarts a tema Dragon Ball E oggi è il turno di Frieza quarta forma Uno dei miei personaggi preferiti, almeno dal lato cattivo diciamo di Dragon Ball E quindi non vedo l'ora di andare a scoprire come si è comportata Bandai in questo caso Stiamo parlando di un pezzo non troppo nuovo, in realtà forse l'uscito un paio di anni fa Ma che sono riuscito a recuperare ovviamente grazie al Colosso dei Nerd Di cui trovate il link qui sotto in descrizione Non perdiamo tempo adesso ragazzi e andiamo subito con l'unboxing di Frieza Iniziamo come sempre dalla confezione, molto standard per la linea SH Figuarts di Bandai Con il nominativo Frieza quarta forma sulla sinistra E da sfondo il blister trasparente che lascia intravedere la figure e gli accessori di cui è dotata Qui sulla destra una rappresentazione di Frieza in una delle sue pose iconiche E sulla parte inferiore marchio di Toy Animations per la conformità Dragon Ball Z, Tamashii Nations e Bandai Sul lato come al solito va a continuare la grafica che troviamo sul front Con la nostra figure in qualche posa E nella parte posteriore la stessa cosa, sempre qualche rappresentazione di Frieza nelle sue pose iconiche E warning e credits Andiamo quindi ad effettuare l'unboxing Come al solito dalla parte laterale della scatola E utilizzare la solita tecnica per l'apertura della scatola senza rovinarla Andiamo a tirare fuori il contenuto Stavolta è venuto via anche lo sfondo Non fa niente E a rimuovere la parte frontale del blister Come possiamo vedere c'è il nostro Frieza e qualche accessorio Tra cui test intercambiabili, mani, braccia concerte, coda La sfera, una delle sfere, quella esattamente a 5 stelle E un paio di piedi intercambiabili Togliamo tutto questo contenuto dalla confezione e esaminiamoli insieme Ed ecco qui ragazzi tutti gli accessori fuori dalla scatola Come potete vedere c'è un bel po' di roba Ma è completamente assente sia la basetta che il relativo supporto Così come non c'è traccia di nessun effetto energetico Come ad esempio quelli per l'utilizzo delle varie tecniche Comunque iniziamo dall'aureola Realizzata in plastica traslucida di colore giallo E dotata di un peg Che può essere applicato soltanto a questa testa già montata su Frieza Che ha ovviamente un foro dedicato Poi abbiamo a proposito di teste Due teste aggiuntive Questa che è urlante a bocca aperta Questa invece è un segno di sdegno o di sofferenza Con i denti digrignati La realizzazione è ottima È molto liscia e lucida la verniciatura Non ci sono segni di sbavature di colore e quant'altro E qui è bello apprezzare appunto queste vene Che stanno a rappresentare diciamo lo sforzo Che sta facendo Frieza in quel momento Ottima anche la resa degli occhi Della smorfia della bocca E questi segni diciamo che sono riportati sul volto Davvero delle bellissime teste secondo me Poi andiamo avanti con la sfera Che è quella a 6 stelle A 5 stelle scusate È molto bella Molto lucida Anche piacevole al tatto Anche abbastanza pesante Ed è realizzata in questa plastica traslucida Credo sia plastica Sembra di sì Plastica traslucida Che permette quasi di vederne l'interno Quasi come se l'interno ci fosse una sorta di fumo È molto bella Molto la resa visiva La resa estetica è davvero eccezionale Non so come potrà essere esposta in collezione Visto che comunque fatica a stare anche ferma qui Però è una bella aggiunta Diciamo un accessorio in più Poi abbiamo qui la coda Anch'essa in plastica Ovviamente leggermente morbida Che però non può essere modificata Quindi non è articolata Se non alla sua base Dove c'è questo peg a sfera Che può essere inserito Nel di dietro di Frisa E quindi può essere modificata Soltanto la base Che può ruotare e spostarsi Leggermente diciamo Per assumere qualche forma un po' particolare Però diciamo che lungo il corpo della coda Non ci possono essere modifiche E quindi rimarrà così Poi abbiamo Le braccia concerte Anche se realizzate molto bene Con due fori Che possono essere applicate a Frisa Semplicemente andando a staccare Le braccia Che sono montate Quelle classiche E poi Andando a giocare un attimino Con le braccia Possono essere applicate In questo modo Nulla di particolare E tutto già visto Poi abbiamo due piedi aggiuntivi Anche essi realizzati abbastanza bene Con le unghie che sono Verniciate E se non mi sbaglio Non scolpite Comunque Abbastanza buoni i dettagli Anche la colorazione Con qualche sfumatura di azzurro Non so se questa cosa sia Voluta O se è un difetto Perché Vedo che è più accennata Più accentuata Qui sulla zampa destra Sul piede destro Piuttosto che sul sinistro Però comunque Molto ben realizzate E A differenza di quelle Già montate Su Frisa Che sono diciamo Piatte Queste Sono Hanno le dita Leggermente Chiuse Quasi ad aggrapparsi Un po' a ricordare La scena Iconica In cui Frisa Compare diciamo Dal promontorio Per Quando affronta Goku Super Saiyan Poi Abbiamo anche Altri tipi Di mani Ovviamente Mani intercambiabili Abbiamo queste Con il palmo Completamente aperto Anche qui Le unghie Sono verniciate Sì Sono verniciate Di colore nero Mentre Il painting La colorazione È sempre di questo Bianco Leggermente sporco Tendente In alcuni punti All'azzurro Poi ci sono Altre mani Anche queste Sono accoppiate Sono un altro Paio Di mani Con i palmi Leggermente più chiusi Non le mani Diciamo Rilassate E poi ci sono Due mani Destre Con il dito Puntato Molto carine Anche queste Per le pose Ovviamente Tecniche Bene ragazzi Per gli accessori È tutto Adesso Andiamo ad esaminare Il nostro Frisa Ed ecco qui Frisa O Frisa Per quanto riguarda La versione italiana In tutto il suo splendore Beh direi che anche stavolta Bandai Ha centrato il punto Stiamo parlando di una figure Di appena 11 cm Ma davvero Realizzata Molto molto bene Ottimo l'upgrade Per quanto riguarda Il painting Rispetto alla versione precedente Che reputo essere Forse un po' Troppo bianca Mentre qui Viene sporcata Da delle sfumature Di un azzurro velato Che lo rendono Più vivo Più simile Alla colorazione Dell'anime Ottimo il painting Anche per quanto riguarda Queste zone Quella delle spalle Dell'addome La testa Gli avambracci Nella parte posteriore E le tibie Con questa verniciatura Viola Perlacea Riflettente Lucida Che rende davvero Tantissimo La colorazione Di freezer Dell'anime Buono anche Lo sculpt Della muscolatura Sia sulla parte frontale Con pettorali Braccia E quadricipiti Sia su quella Del back Appunto Con questa schiena Enorme Poi Per quanto riguarda Le fattezze del volto Nulla da dire Perfetto il painting Con questo contorno Occhi La pupilla La bocca Anche quello Ovviamente Delle altre teste Di quelle intercambiabili In cui le espressioni Di Frisa Sono davvero Eccellenti E Sono praticamente Identiche A quelle dell'anime Poi ragazzi Null'altro da dire Per me Questa È la versione Definitiva Almeno per quanto riguarda La figure Del Frisa Nella sua Quarta forma Adesso Andiamo a vedere Un attimino Le articolazioni Cominciando Come sempre Dalla testa Che può Ruotare Di 360 gradi Andare In basso Di parecchio Quindi fin qui E in alto Più o meno Fin qui Poi Articolazioni Delle spalle Che sono un po' Durette Devo dire Però Per la Per me Con la Butterfly Joint La possibilità Quindi di alzare Le braccia Sopra la linea Di 180 gradi In avanti In avanti Di fare Per quanto a ruotare Può Può anche girare Da una parte E dall'altra E andare Sia in basso Che in alto Scoprendo però Questo fastidioso gap All'altezza del bacino Poco male Poi per quanto riguarda Le gambe Possono essere Aperte Praticamente Quasi a fare Una spaccata Orizzontale Possono andare In avanti Superando la linea Di 180 gradi Ma Non molto All'indietro Per via Di questo pezzo Di plastica Del bacino Per quanto riguarda Invece le ginocchia Doppia articolazione Resa molto bene Può superare I 90 gradi Così Come quella Dei piedi Con Pegga sfera Che quindi Possono girare In tutte le direzioni Anche leggermente Verso il basso E verso l'alto Quindi Oltime le articolazioni Ottima La figure Ripeto Secondo me Il FISA Quarta forma Definitivo E quindi Andiamo a vedere Qualche pose Insieme Ed eccomi di nuovo qui ragazzi Per la conclusione del video È stata veramente tosta È stata un'impresa Ma alla fine Ce l'ho fatta È stata tosta Perché durante la fase Di posing Ho avuto non pochi problemi Con questo FISA La figure Praticamente Mi si sgretolava Tra le mani Una volta Si staccava Una gamba Una volta Una spalla Una volta Un braccio E più Perché Non riuscivo Davvero a farla Stare in piedi Troppo squilibrio Tra il peso Della coda E quello Della figure E quindi Niente Ho dovuto trovare Spesso dei compromessi Squilibrarla da una parte Piuttosto che da un'altra Per permetterle Di stare in piedi Ora Io non sono un campione Soprattutto nel posing Quindi Molti di voi diranno Eh vabbè Message figures è così E sono d'accordo con voi Io vi dico solo La mia opinione personale Che Secondo me Non dovrebbero staccarsi i pezzi In modo così semplice E non dovrebbero esserci Queste difficoltà nel posing A meno che Non sia prevista Una basetta In questo caso Non c'è stata Non c'è in dotazione Probabilmente Per preservare il valore Delle edizioni precedenti Che invece A quanto pare Avevano una basetta Così come Gli effetti energetici Delle tecniche E quant'altro Mi sta bene Però Quanto meno Creare dei Cioè Creare una figure Che possa stare In piedi Da sola Sarebbe magari Il minimo Indispensabile Per tutto il resto Comunque Sono molto contento Della resa estetica Di questo Frisa E secondo me La figure definitiva Se solo andassero a migliorare E a bilanciare Queste cose Sarebbe davvero Il Frisa Perfetto Incompleto Per gli effetti Mancanti Ma comunque Per quanto riguarda La figure Davvero Ottima Detto questo Ragazzi Fatemi sapere voi Che cosa ne pensate Se ce l'avete in collezione Se magari Sono io Che non sono capace Tipo usare Tipo usare E quant'altro E ci sta Mettete mi piace Al video Se vi è stato d'aiuto O vi è piaciuto Fatemi sapere Cosa ne pensate Anche del video Ragazzi Perché per me È importante Scrivetelo Qui sotto Nei commenti Mettete mi piace Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto E ci vediamo Come sempre A un prossimo video Ciao ragazzi A presto